Giovanni il cacciatore è patito de caccia, tanto che si è comprato un'attrezzatura super sofisticata, tuta mimetica, cinturone con coltelli di varie dimensioni, fucile di precisione con mirino di precisione, soltanto che c'è un problema che Giovanni non riesce mai a prendere una breccola e mentre un giorno stava cacciando nel bosco incontra un suo vecchio amico cacciatore Alberto e nota che Alberto è vestito leggero leggero con una tutina, non c'ha manco un fucile, c'ha soltanto un coltellino qui attaccato alla vita e c'ha una corda intorno alla vita con un sacco di uccelli morti attaccati, praticamente aveva preso un sacco di cacciagione Alberto, allora Giovanni gli fa, ammazza la roba che hai preso, ma a me non mi riesce mai a cacciare niente, ma come hai fatto? E Alberto, ma te credo, ma te ancora vai in giro con quei sistemi, con quei sistemi dei cent'anni fa, il fucile di precisione, aduta, spettacolare, guarda io che me l'ho comprato, Giovanni, insomma tira fuori un flauto piccolo così, allora Giovanni gli fa, e che è quello? E Alberto, che è questo? Questo è un flauto magico, Giovanni, questo te metti davanti alla tana, lo suoni, esce la preda rincoglionita, prendi il cortellino, gli hai da una cortellata e l'hai cacciato, è fatta, tutto qua, e poi ricordate una cosa, più è grossa la tana e più è grossa la preda, allora Giovanni, ammazza il bello, ma davvero mi stai a dire, ma a me fai un favore, ma a me lo presti quel flauto, per favore dai, che c'è mia moglie, che mi pia sempre per culo, che non piume niente, mi presento sempre a mani vuote, Alberto, no Giovanni, questo non c'ha prezzo, sto flauto non c'ha prezzo, non mi puoi chiedere sta cosa, e dai te prego, tu lo restituisco la settimana prossima, te prego, insomma, insisti, che te rinsisti, alla fine Alberto cede e gli presta il flauto, allora gli dice, ah Giovanni, io devo presto il flauto, ma mi raccomando, quest'altra settimana puntuale qua e me lo riconsegni, e poi ricordate, più è grande la tana e più è grande la preda, insomma, i due se salutano, la settimana dopo Alberto rivà all'appuntamento per la riconsegna del flauto, ma Giovanni non si presenta, allora ci ritorna il giorno dopo, ma Giovanni non si ripresenta, insomma, Giovanni per una settimana non si presenta, allora Alberto preoccupato va a casa di Giovanni, allora suona la porta, gli apre la moglie, oh ciao Alberto, oh ciao Marina, ma Giovanni, e Marina, eh, va dell'asta, in camera da letto Giovanni, vai a vedere, ma perché, che gli è successo? Eh, ma tu va in camera da letto, vai a vedere, insomma, Alberto va in camera da letto, e vede Giovanni tutto ingessato da testa ai piedi, allora gli fa, ah c'ho va, ma che hai combinato? E Giovanni, eh, sta buono Alberto, tu mi hai detto, eh, da andare davanti alla tana a suonare il flauto, più è grande la tana, più è grande la preda, e beh, che è successo? E niente, sono andato a suonare sto flauto davanti a una tana di un metro per un metro, e niente, è uscito un cinghiale, eh, e gli ho dato una cortellata e l'ho cacciato, e beh, mi pare che andava tutto bene, e no, aspetta, aspetta Alberto, e beh, poi si è andato davanti a un'altra tana di due metri per due metri, e ho iniziato a suonare il flauto, e beh, che è successo, Giovanni? Eh, e niente, è uscito un orso tutto rincoglionito, ho preso il pugnaletto, zack, e l'ho sgozzato, e ho cacciato pure l'orso, e beh, ammazza da paura, Giovanni, e allora che è che è andato storto? Eh, aspetta, aspetta, poi si è andato davanti a una tana di sette metri per sette metri, ho iniziato a suonare il flauto, e beh, e che è successo, Giovanni? Eh, e beh, è uscito il treno!